La scala misuridia in tonalità di Re è composta dalle seguenti note, tra Re e Mi un tono, tra Mi e Elfa diesis un tono, tra Elfa diesis e il Sol un semitono, tra il Sol e il La un tono, tra Le e il Si un tono, tra il Si e il Do un semitono, tra il Do e il Re un tono. Ci sono una variazione in pratica nella direzione a salire dei sharp, dei diesis e del Fa diesis.